Allora, sono qua in Google Contatti e sto cercando, ma non ce la faccio, di riuscire a... siccome alcuni ragazzi hanno... ho diverse email, tra cui quella istituzionale, in alcuni ragazzi riesco a mettere come email principale, come contatto principale, quella istituzionale, mentre in altri no, ok? Niente, però facendo così ho trovato un'altra cosa che è molto, molto interessante, perché io sempre ho avuto il problema su Google Contatti come caspita fare, io cercavo i cognomi perché i nomi non me li ricordo e così via, mi ricordo i cognomi e vado a cercare i cognomi, solo che avevo sempre l'ordine alfabetico con la prima lettera del nome, e invece si può fare anche col cognome. E allora come si fa? Si fa semplicemente, si va qua in opzioni, ok? More settings, ok? Qui io choose your language, io quello l'ho fatto in italiano, ma vabbè, qua in straniero, è in inglese, Italy, ok? Qua short by, last name, fate questo che vi salva la vita. Lo facciamo? Sono ordinati per il cognome, li faccio io, faccio save e mi cambia e ho tutti i ragazzi in ordine alfabetico per cognome, fantastico. Non sembra, ma questo riduce tantissimo il tempo perso per andare a cercare. Spero che vi sia d'aiuto, vi saluto, a vederci alla prossima.